Sarà l'organo da sempre considerato lo specchio dell'anima, l'occhio, ancora una volta protagonista a fermo. Il territorio della più giovane provincia marchigiana si sta connotando internazionalmente come la nuova frontiera dell'approfondimento scientifico nell'ambito dell'oftalmologia. Oltre il 25% della popolazione italiana soffre di tale vizio di refrazione, una fetta molto importante della società per la quale si mobilita l'Università Politecnica delle Marche. Insieme ad essa ci sono la fondazione Onlus Retina 3000 ed il gruppo industriale O-Group. A loro il merito di avere portato nella città capoluogo della nuova provincia marchigiana alcuni dei nomi più accreditati a livello mondiale in ambito medico-oculistico. La miopia pur essendo un'alterazione dell'occhio vecchia quanto l'uomo sicuramente come argomentazione generale è stata trascurata per il passato. Nei diversi congressi si parlava dei vari aspetti della miopia ma questo è il primo convegno internazionale che si tiene in Italia che tratta la miopia a 360 gradi. Infatti saranno appunto presenti illustri relatori che costituiscono i top opinion leader nel mondo mentre i precedenti convegni organizzati in Italia avevano carattere regionale, un carattere molto ristretto o comunque diciamo nazionale. Fermo la miopia, congresso che vedrà al Teatro dell'Aquila il 9 e 10 settembre la partecipazione di 800 oftalmologi italiani i quali assisteranno alle lezioni magistrali ad opera di 10 ricercatori scelti tra i massimi esperti a livello mondiale. Nelle varie sessioni della due giorni si alterneranno 80 tra i più accreditati professionisti della medicina oculistica. Scopo del congresso è quello di svelare pieno le insidie che la miopia comporta e sottolineare i rischi che si possono correre sottovalutando la comunissima anomalia della vista. Di qui l'importante compito divulgativo e di sensibilizzazione dei media, veicolo indispensabile per portare a tanti ciò che verrà discusso tra gli addetti ai lavori ed in virtù del fatto che oltre alla chirurgia nel Fermano possiamo vantare un'azienda, la OO Group, che attraverso la ricerca è riuscita a mettere in commercio un prodotto completo a sostegno dell'occhio miope.